Roma-Jumentus finisce 0-0, il punto che ci consegna è il settimo scudetto di fila, il quarto dublietto sempre di fila. Grazie a tutti i ragazzi, grazie al mister Allegri, per il futuro ci sarà da ringiovanire questa squadra e da potenziarla, perché si può continuare a vincere, come ho detto, ma abbiamo un grande sogno, la Champions League, e deve diventare un obiettivo per cui lottare ogni anno o per provare ad andare in finali. Mi sono piaciuto moltissimo vedere le dichiarazioni di Chiellini dopo la partita. La motivazione ce l'ha dato lo stesso Napoli, le critiche per il gioco, il VAR, i fuochi d'artificio, insomma ci hanno spinto ad andare oltre la leggenda ed entrare direttamente nel mito. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, forse di epico, che forse tra qualche anno ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto. Scrivendo la storia sia italiana che europea, c'è da dire che cercheremo di tenere tutti i nostri campioni e di potenziarci. Fiducioso per il futuro e con questo è tutto e continuiamo a essere i campioni d'Italia, ancora una volta. E sempre fino alla fine, forza di Ventus!